Allora Edoardo, ieri una bella funga, alla fine però il gioco non vi ha lasciato abbastanza spazio? Sì, perché ero vicino in classifica, comunque penso che sia stato anche per quello, però ci ho provato, insomma. Ci avevo anche creduto ad un certo punto di poter arrivare, però poi la Ineo ha tirato forte e poi hanno anche vinto, quindi... Oggi può essere un'altra giornata buona per andare all'attacco e anche un po' per letto caratteristiche, diciamo, assolutamente. Sì, oggi penso che sia la tappa regina di questa copia Bartley, è durissima, sono 4.000 metri di dislivello e ho visto che non c'è un metro di pianura. Spero di aver recuperato bene da ieri perché ho fatto parecchia fatica e certo se starò bene, insomma, proverò a inventarmi qualcosa. Gli aspetti grande battaglia tra gli uomini di classifica? Alla fine sono in tanti, in pochissimi secondi oppure ci sarà spazio anche per qualche finale diverso? Beh, penso che oggi ci sarà veramente tanta battaglia, tanti punti di vista, però sì, sarà la tappa che farà, penso, la classifica decisiva. Va bene, grazie. Grazie, grazie. Grazie, ciao.